Benvenuti, benvenuti in questo video e vediamo, vediamo, fai piangere e soffrire il tuo ex partner per te adesso. Prima di affrontare il tema però metti un like, condividi questo video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su tutti i miei social, tutti i canali YouTube e naturalmente se vuoi fare una piccola donazione al canale puoi andare sotto il video tastino super grazie e fai una piccola donazione al canale oppure se vuoi offrire dei benefici, dei vantaggi esclusivi degli abbonamenti basta che vai sulla home page, tastino abbonati e seleziona l'abbonamento che preferisci. Se non lo vedi con l'app del cellulare, con il computer, veniamo al tema, fai piangere il tuo ex, fai piangere e soffrire il tuo ex partner per te adesso. Allora, se un ex se ne è andato, se è diventato ex quindi, se uno se ne è andato, come fai a farlo soffrire, come fai a farlo piangere, come fai a farlo pentire? Perché ci si può pentire per tre motivazioni fondamentali. Il pentimento teniamo presente che dà luogo a dei rammarichi, che sono delle sofferenze molto forti, i rammarichi per rimpianti, per non aver fatto tutto quello che avrebbe potuto fare, pentimento per rimorso, per aver fatto qualcosa, in questo caso magari essersene andato, che non avrebbe dovuto fare, e pentimento per rancore, cioè rabbia verso se stesso per essersi comportato male. Allora, quali sono le cose che dobbiamo tenere presente per quanto riguarda il tuo ex partner? Allora, una persona soffrirà per te quando penserà di aver perso qualcosa di importante. Quindi questo non c'è altro modo. E' ovvio che se lui se ne è andato ti ha giudicato in qualche modo poco importante. E qua c'è la sua immagine mentale che in questo modo ti percepisce così. E allora, questa è una sua credenza ovviamente, e allora bisogna andare a scardinare, a smantellare questa credenza. Uno dei modi per scardinare le credenze è tramite gli altri. Sembra strano, ma la maggior parte delle persone sono comunque pilotate anche dal giudizio degli altri. Quindi, se lui vede che alle cose che magari a lui non piacevano, invece sono attraenti per gli altri, e se lo vede costantemente inizierà a modificare la sua immagine mentale. Perché quello che devi imparare a fare è modificare la sua immagine mentale, l'immagine mentale sua che ha di te. Perché noi percepiamo l'altra persona attraverso noi stessi, attraverso la nostra immagine mentale. Quindi quello che va ristrutturata è l'immagine mentale. Quello che va ristrutturata è quello che ha di dentro questa persona. E questo devi imparare a farlo. Non è così complicato. L'importante è che, intanto, la cosa principale che devi fare è evitare di inseguire assolutamente il tuo ex partner. Questo lo dico sempre, ma inseguire l'ex è il bacio della morte e della seduzione. Inseguire l'ex è il canto del cigno della seduzione. Devi evitare assolutamente di inseguirlo. E analizzare te stessa più che analizzare l'altro. Analizza te stessa da un punto di vista emotivo, da un punto di vista fisico, da un punto di vista della comunicazione, soprattutto della comunicazione non verbale. Analizza te stessa, sei donna, se sei uomo vale tutto, questo va al contrario dal punto di vista della femminità, se sei donna e della mascolinità sei maschio. e apporta primis, in primis, per te stessa, dei miglioramenti emotivamente. Come fai ad essere più sicura? Te lo dico io. Datti delle emozioni! Che non siano quelle... Gni, se n'è andata, gni, se n'è andato. Datti delle emozioni. Crea un'alleanza, una nuova indissolubile alleanza, una nuova ed eterna alleanza tra te, te stessa, diciamo, logica e la te stessa emotiva. Quindi ti sentirai molto meglio. Poi, da un punto di vista fisico, cosa puoi fare per migliorarti? Da un punto di vista fisico, c'è l'aspetto fisico, vero e proprio, che secondo me, le uniche due cose che sono da fare, mangiare bene e allenarsi. Ma non importa l'età, ti puoi allenare anche a 150 anni, se ci sono per dire, no? Se non hai problemi particolari, un po' di allenamento fisico va bene. Poi se sei una malgasciona, ti va anche bene. Fai un allenamento, se non sei abituata, riprendi, insomma. Perché tonificare il corpo, eh beh, basilare, è fondamentale. A parte che genera anche serotonina, quindi ti migliora anche l'umore, però è fondamentale. E poi, ma ripeto, per se stessi fondamentalmente. E poi tieni presente la tua comunicazione non verbale, che deve essere, qua, diversa se sei uomo o se sei donna. Se sei donna, deve farti percepire come una femminale, far cammina dritto, sguardo dritto, leggermente anche giante, perché da quella sensualità, sempre sorridente, come dire, essere sempre sorridente perché attiri gli uomini, no? Perché gli uomini sono attirati dal detto donna che ride, mutanda che cala e per questo motivo se tu sorridi, gli attiri e poi dopo la mutanda la tieni supero. Perché questo è fondamentale per coinvolgervi, per farli innamorare. Perché devi, dovrai agire su altri maschi, su altri uomini. E poi c'è l'aspetto propriamente, diciamo, anche di gestualità. Devi essere armoniosa, sinuosa, più materna possibile. Se sei maschio, invece, ovvio che la marzialità, occupare tanto spazio, parlare, gesticolando lentamente, ma occupando spazio, perché fai come il pavone che fa la ruota, il pavone fa la ruota perché occupa più spazio. Quindi posizione dell'arciera, bilanciato, sguardo fiero, e questo ti fa percepire come maschio alfa. Quindi, buon linguaggio non verbale. Ovviamente, poi, se sei donna, cura molto la tua femminità. Le mani devono essere apporti. Non con le unghie dai denti a sciabola, della tigra dai denti a sciabola. Queste unghie di plastica che fanno schifo. No, alle, secondo me, poi ognuno dei gusti, non disputando un mest, ai canò, no al silicone, no al silicone. E poi, quando si va a fare il bagno, galleggi perché c'è tanto silicone. No al silicone. Secondo me, è importante curarti le mani, curarti le unghie. In generale, curare i capelli, fare un taglio, insomma, curare un abbigliamento che deve essere femminile. Femminile, non da mignotona. E questa è la cosa fondamentale. Poi, vaporosa, profumata, insomma, è molto importante. Se sei maschio, devi manifestare, insomma, l'abbigliamento può essere meno importante, però manifestare comunque un po' una classe, uno stile, avere qualche accessorio che ti caratterizzi, che ti faccia pensare come una persona di valore, come una persona importante. Questo è fondamentale. E quindi queste sono tutte tecniche, strategie che tu puoi utilizzare perché dovrai interagire con altre persone. E non andando a manifestarti tanto col tuo padre, non cercandolo, vedrai che sarà lui in qualche modo a cercare. E allora lì devi accogliere, non è che devi, sì, ma come se fosse un fratello o una sorella e devi farlo parlare perché poi devi farlo piangere, devi fargli vivere emozioni. Quindi già se sai delle cose, già se sai quali sono i tasti dolenti, le emozioni compresse nella sua vita, vai a sollecitarle, fai scarpetta sulle emozioni perché questo gli darà e quindi vai giù con abbandono, vai giù con rifiuto, vai giù con disistima, vai giù con senso di colpa, vai giù con farlo svergognare, giudicarlo, condizionarlo e sono tutte cose che sono molto utili per diciamo ottenere di dargli emozioni ovviamente. Ecco, messo tutto questo assieme ti posso garantire che farà sì che il tuo ex partner si pentirà e piangerà e soffrirà per te adesso e allora poi potrai diciamo eventualmente rigirare il minestrone per se torna diciamo ottenere ancora di più fargli come dire farlo passare sotto le forche caudine somministrargli forti tensioni avrai possibilità veramente di una piena riconquista farlo tornare veramente innamorato coinvolto e otterrai dei grandi risultati segui questa indicazione nel frattempo metti un like condividi il video con i tuoi amici e ovviamente iscriviti al canale gratuito attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video seguimi su tutti i miei social e su tutti i canali youtube e se il video ti piace vuoi fare una piccola donazione vai sotto il video tastino super grazie e fai una piccola donazione al canale se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi e degli abbonamenti vai nella home page tastino abbonati vicino a tastino iscriviti se non lo vedi con l'app del cellulare per il computer e selezioni l'abbonamento che preferisci per questo video è tutto